e allora buongiorno benvenuti a Donne e Finanza di quest'oggi se c'è Donne e Finanza non può che esserci Paola Pallotta ciao Paola benvenuta. Ciao Marco buongiorno. Allora oggi in questa rubrica facciamo una cosa un po' diversa ci stanno scrivendo i tantissimi ma continuate a farlo adesso dovrebbe arrivare dalla regia www.masquattro.it ma soprattutto info chiocciola masquattro.it ecco lo vedete qua in basso per scriverci facci tutte le domande che volete qualcuno però ci scrive anche su YouTube a noi va bene lo stesso iscrivetevi però e mettete mi piace e sempre sul canale YouTube e oggi facciamo proprio questo andiamo a rispondere a due domande che ci sono arrivate su YouTube non necessariamente da donne ma l'abbiamo detto Donne e Finanza è un pretesto noi rispondiamo a tutti più che volentieri andiamo a vedere la prima domanda vado a condividere lo schermo ecco la prima domanda da YouTube arriva e dice eh non è questa la prima domanda scusate ho sbagliato le ho invertite ma recuperiamo subito eccolo qua la domanda su YouTube il parche con filosofia dollar cost average ad un certo punto smette di mediare il prezzo perché sul lungo termine il prezzo medio di cariche quasi impercettibile forse è meglio eh puntare sul value average a aver averaging posso chiedere a Paola se oggi con la situazione odierna americana inflazione al nove virgola uno per cento rinforza del dollaro rispetto all'euro conviene iniziare ad investire sui tregeri americani di breve o lungo periodo oggi siamo nella fase cinque dei cicli di mercato quando conviene investire sulle obbligazioni governative e in questo caso americano grazie per un'eventuale risposta allora una domanda bella corposa che ci fa anche capire un po' la preparazione dei nostri ascoltatori e quindi grazie mille per la domanda io partirei Paola se mi consenti di spiegare che cos'è questa filosofia dollar cost avere 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 oggi purtroppo c'è la lingua che incastra anche durante la rassegna stampa mi era entrato un picciono in gola e non riuscivo a farlo e comunque e l'altra invece è value e vendita allora era quello che ci dicevi grazie Marco che dicevo che vi raccontavo la volta scorsa in cui abbiamo parlato del meccanismo dei pack no per cui il semplice il dollar cost averaging consiste semplicemente nel dare un nome al fatto che il piano di accumulo di capitale quindi l'acquisto scaglionato nel tempo di di quote di uno strumento finanziario chiaramente consente siccome compri un po' la volta nel tempo alla fine di fare un prezzo di carico dell'investimento complessivo che risulta dalla media dei vari acquisti e quindi è correttissimo quello che dice il nostro amico che ci segue il commento che ha fatto è chiaro che nel lungo termine si anacqua questa situazione quindi il valore del del concetto quindi il vantaggio di mediare il prezzo medio di carico nel lungo periodo si affievolisce e questo è un assolutamente un dato di fatto quindi era solo la mia descrizione serviva solo a far capire in effetti che quando facciamo un acquisto scaglionato nel tempo andiamo a comprare con i nostri 50 euro regolari andiamo a comprare le mele al mercato e la nostra spesa il sacchetto della spesa è più o meno pieno di mele a seconda di qual è il prezzo della mela cioè questo è no quindi è chiaro che questo determina appunto poi avere più quote a disposizione più mele a disposizione se il prezzo era calato e di conseguenza poi quando andiamo a fare la rivalutazione del nostro investimento appena il prezzo di mercato supera il prezzo medio di carico siamo già in territorio positivo come appunto investimento complessivo quindi questo è il meccanismo nel lungo periodo l'abbiamo detto tante volte no marco anche anche giorgio lo sottolinea volentieri e spesso il valore del piano di accumulo nel protratto nel tempo è come dire direttamente legato al fatto di consentirci di fare un accumulo di un patrimonio che non c'è per cui se noi abbiamo la possibilità di affiancare alla nostra no menage diciamo regolare un deposito regolare una contribuzione regolare ad un pack nel corso del tempo veramente duraturo questo è proprio quel famoso risparmio quella cosa che no metto da parte regolarmente e che alla fine mi genera un capitale se il capitale inizialmente c'è già diluire così tanto nel tempo l'investimento perde valore e perché la parte che rimane in liquidità tanto tempo prima di entrare no ad essere investiti a lavorare in realtà riduce il rendimento complessivo del mio investimento per cui lunghi pack lunghissimi tutta la vita potremmo averne uno sempre lì che è proprio il nostro io dico sempre che la un po il mio motto è risparmiare non basta ed è ed è questo quello che ho imparato è vero che noi diciamo ah io vedi tutti i mesi riesco a mettere da parte 100 euro perfetto bellissimo è già no un punto di partenza meraviglioso ma se li metto da parte basta sappiamo che nel tempo quei 100 euro che si vanno accumulando e diventano il mio piccolo tesoretto in realtà vengono erosi dall'inflazione quindi se il mio tesoretto nel frattempo io lo metto anche a lavorare allora effettivamente alla fine potrò generare un un autentico piccolo patrimonio che non mi sarò resa conto neanche di di avere quindi lungo per sempre proprio come regola se non ci sono i soldi ma se ci sono già tempo e allora il dollar cost funziona e aiuta insomma il pack è come un diamante è per sempre uno lo deve prendere e poi ti dà gli stessi vantaggi e soddisfazioni di avere perché diventa un diamante nel tempo poi signori uomini non vuol dire che le donne non apprezzino anche il diamante ok che non diventi una scusa non è che adesso possiamo e fai il pack e fai il diamante insomma è una che non diventi una scusa che non si dica che poi la pallotta dice che no per l'amore del cielo ma io esco sempre da questi terreni scivolosissimi e ti riporto invece in una domanda precisa da parte la seconda parte che ci dice abbiamo l'inflazione al 9,1 il dollaro che spinge non è il caso di comprare dei trezori americani di breve o di lungo periodo allora l'obbligazione governativa americana oggi ma anche il corporate americano quindi anche le emissioni di società di alta qualità in realtà sono interessanti perché di fatto torniamo alla politica monetaria delle banche centrali la politica monetaria della fed è un pochino più chiara quindi il percorso di aumento dei tassi che la fed farà da qui ai prossimi mesi è stato annunciato dichiarato digerito dal mercato per cui i primi mesi dell'anno sono stati dei mesi molto duri per le obbligazioni americane perché nei prezzi il mercato ha incorporato gli aumenti futuri dei tassi quindi i prezzi delle obbligazioni sono i rendimenti sono aumentati e i prezzi di conseguenza sono diminuiti e sono diminuiti tanto perché si è capito che la fed avrebbe necessariamente dovuto fare degli interventi di politica monetaria restrittiva piuttosto significativi in considerazione dei livelli dell'inflazione e della natura dell'inflazione per cui le obbligazioni governative americane diciamo che in questo momento sono meno soggette ad un rischio tasso perché hanno ripeto già nei prezzi il percorso di aumenti o quantomeno ce l'hanno in larga misura quindi molto di più di quanto non sia vero per l'Europa quindi tra le due sicuramente comprare un'obbligazione governativa europea a lungo termine che sono quelle sulle quali un'eventuale modifica a rialzo dei tassi di interesse fa più male perché sulla durata aumenta l'effetto di perdita in caso di aumento dei tassi è meno vero in America per cui anche obbligazioni anche insomma i grandi asset manager le grandi case di investimento internazionale tendenzialmente sono tornate in una posizione dicono di neutralità anche sulle obbligazioni a più lungo termine americane quindi hanno ricominciato a prendere delle posizioni anche sulle obbligazioni governative con scadenze un pochino più lunghe perché temono molto di meno insomma di vedere il prezzo diminuire a causa di ulteriori aumenti dei tassi non dichiarati non attesi chiaramente quando si vanno a comprare obbligazioni soprattutto governative che comunque hanno dei livelli di rendimenti più contenuti in America stiamo andando a comprare anche il rischio dollaro quindi come dire la mia risposta è sicuramente una risposta sì è vero le obbligazioni governative americane sono interessanti anche le obbligazioni corporate sono interessanti chiaramente su quelle l'oscillazione euro-dollaro può avere un impatto più forte perché parliamo di rendimenti più contenuti e quindi la variazione del tasso di cambio può incidere pesantemente quindi bisogna fare un po' di attenzione perché oggi il dollaro sappiamo è a livelli molto forti chiaramente abbiamo visto ieri un dollaro che è leggermente ritracciato un euro che ha risposto all'intervento della BCE e quindi si è leggermente rafforzato però sappiamo che ci troviamo in un momento in cui il dollaro è in una posizione di forza e questa posizione di forza tendenzialmente probabilmente per i prossimi mesi potrebbe essere conservata ma in un più ampio orizzonte temporale il dollaro oggi ha dei livelli veramente molto alti rispetto ad un paniere non necessariamente rispetto all'euro ma rispetto in generale ad un paniere di diverse valute internazionali quindi qual è l'orizzonte temporale del tuo investimento quali sono i tuoi obiettivi quindi in realtà mi vengono delle domande per il nostro ascoltatore perché per dare una risposta seria ci sarebbe da capire per quale motivo si stanno facendo questi tipi di considerazioni di investimenti con quale finalità perché a seconda di questo cambia tantissimo la risposta soprattutto oggi anche in relazione al cambio euro-dollaro un orizzonte temporale di più ampio respiro chiaramente potrebbe vedere il rischio dell'indebolimento nel medio termine del dollaro contemporaneamente una posizione coperta per tanti anni è una posizione che subisce un costo di copertura molto alto e che anche lì azzera il vantaggio di aver fatto quella scelta quindi è un'operazione insomma accurata da considerare rispetto a quali sono gli obiettivi come è strutturato il portafoglio qual è l'esposizione totale al dollaro insomma veramente tante cose ecco e per quanto riguarda invece il discorso che diceva il nostro amico diceva siamo nella fase 5 del ciclo economico è il caso di comprare obbligazioni innanzitutto ti chiedo se possiamo dirlo che siamo in questa fase è sempre molto difficile dare delle caselle alle fasi insomma fa parte che alcuni dicono che sono tre altri cinque altri sei ognuno ha la sua ha la sua versione però ci chiede in generale è il momento di al di là della fase 5 fase 6 è il momento di comprare obbligazioni insomma vale un po' quello che abbiamo detto anche prima sì sì è il momento di comprare cioè guardare i prezzi l'obbligazione americana ripeto rischio più basso più contenuto e prezzi oggi più interessanti per cui vale la pena e vale la pena anche prendersi qualche scadenza un po' più lunga ma anche il mondo del corporate investment grade di alta qualità oggi presenta degli spread quindi ha una ripaga rispetto al rischio in maniera molto interessante fasi del ciclo economico i ciclo economici si sono compressi moltissimo è veramente molto difficile no andare a fare una lettura puntuale si sono compressi moltissimo e quindi oggi ci troviamo in una situazione in realtà sì con alcune caratteristiche di fine ciclo e sappiamo che queste ci sono per cui sappiamo anche Marco che soprattutto rispetto alle materie prime si sta già cominciando a apprezzare la prossima potenziale recessione negli Stati Uniti quindi mi concentro adesso mentalmente sull'America pensando a perché poi voglio dire il mondo non è completamente sincrono assolutamente di conseguenza le fasi di ciclo economico variano nelle diverse parti del mondo e la situazione negli Stati Uniti in questo momento è una situazione appunto di abbiamo detto piena occupazione inflazione molto alta stiamo vedendo la Fed intervenire verosimilmente riuscirà facciamo i cano ritiriamo fuori i nostri debili di economia e diciamo quindi tendenzialmente dovrebbe succedere che l'inflazione si contiene che altrettanto succede all'occupazione e l'inflazione contenuta aumentano i prezzi di finanziamento per le aziende e quindi si entra in una fase più difficile per la domanda e per la produzione e quindi si entra in una recessione cosa farà allora la banca centrale verosimilmente andrà nuovamente a tagliare i tassi e a reintervenire quindi è veramente brevissimo l'arco temporale di rialzo e riabbasso cioè ci possiamo immaginare di vedere in un anno e mezzo un'operazione molto molto veloce per cui fare ragionamenti di investimento legati al movimento all'andamento di cicli economici è più un atteggiamento come dire sicuramente da professionista degli investimenti da gestore da no da chi fa un asset allocation strategica e quindi va a guardare questo tipo di movimenti diciamo che io piccolo risparmiatore io Paola tendenzialmente non faccio tantissimo riferimento a questi elementi per prendere delle decisioni di investimento su di me vale di più il mio ciclo economico finanziario quindi mi devo sposare devo comprare casa e mio figlio deve fare l'università diamante insomma queste cose allora Paolo io ti ringrazio tantissimo siamo andati un po' lunghi ma ancora ho fatto 6.000 domande oggi ma ce n'ho ancora una di un altro ascoltatore ti chiederei proprio una risposta flash per chiudere donne finanze di oggi una puntata veramente piena ecco ci dice il nostro ascoltatore che ci fa i complimenti allora ve li leggo perché ci fanno sempre piacere direi sempre ottimi contenuti direi che un'altra differenza tra PAC e fondo pensione è corriggetemi se sbaglio sono i vantaggi fiscali previsti dai fondi pensione contrariamente ai PAC per cui chi è assoggettato a IRPEV direi che insomma goda già di un gran vantaggio e anche la tassazione sui versamenti non portati a deduzione hanno delle agevolazioni fiscali man mano che passano gli anni da valutarne i costi ma mi sembra che come strumento finanziario sia ottimo come lo è un PAC soprattutto se come strategia di mediazione magari si conservi più liquidità nei periodi come questo di beer market spero di non aver detto bagianate Paola vabbè questa poi insomma noi abbiamo ricordato direttamente la domanda insomma ci parla un po' dei vantaggi fiscali del PAC insomma ha ragione il nostro amico giusto? sì sì ha molto ragione allora diciamo che io avevo raccontato del parallelismo tra PAC e fondi pensione perché mi sembra una persona ci aveva chiesto proprio di metterli a confronto per capire le differenze perché c'è chi gli suggerisce una cosa e chi l'altra come investimento di lungo termine quindi dicevo queste sono le differenze chiaramente il fondo pensione presenta anche dei vantaggi fiscali ed è vero è correttissimo quindi i vantaggi fiscali sono diciamo durante la vita durante la fase di accumulo del fondo pensione diciamo che ci sono due vantaggi fiscali fondamentali uno la possibilità di deduzione per ciascun individuo che è versa nel fondo pensione di un importo fino a 5.000 lo leggo per ogni volta mi confondo 5.164,57 euro quindi se noi facciamo contributi nel fondo pensione noi o la nostra azienda i deducibili sono quelli del lavoratore o quelli dell'azienda non è deducibile l'importo che viene accantonato qualora questo corrisponde al TFR del dipendente quello non si può dedurre chiaramente ma i contributi personali del lavoratore e i contributi dell'azienda fino ad un importo di 5.164,57 possono essere portati in deduzione quindi alla fine dell'anno sull'imponibile complessivo fiscale si toglie l'importo versato e di conseguenza si pagano le tasse sulla parte sottostante quindi ci dà questo tipo di risparmio fiscale se versassimo di più di quei 5.000 in realtà quello non è perso ma supponiamo di versare ogni anno 6.000 euro nel fondo pensione gli 800 insomma quello che la differenza gli 850 euro di differenza rispetto ai 5.000 5.000 vengono portati in deduzione gli 800 vengono segnalati al fondo pensione e nel momento dell'erogazione della prestazione quindi quando andiamo in pensione o riceviamo la rendita vitalizia o 50 rendite e 50 capitale a seconda di quello che scegliamo in quel momento quelle cifre che io avevo versato oltre quel limite sono completamente esenti fiscalmente quindi non è perso anche l'eventuale accumulo superiore rispetto ai 5.000 euro per cui primo vantaggio fiscale in accumulo secondo vantaggio fiscale in accumulo è che i fondi pensione sono soggetti sull'utile generato dall'investimento ad una tassazione del 20% e non del 26% quindi sappiamo che se io ho una genero una plusvalenza su un investimento in un etf azionario pago il 26% quando vado a riscattarlo nell'ambito del fondo pensione si paga il 20% e il 12,5% come aliquota riferita ai titoli di stato ed equiparati così come fuori il terzo aspetto è che nel momento della fruizione della prestazione per cui ripeto siamo arrivati alla fine abbiamo la possibilità di scegliere metà rendita e metà capitale oppure tutta rendita beh la pensione diciamo di anzianità quella pubblica naturalmente è soggetta alle aliquote IRPEF mentre la componente che arriva dal fondo pensione è soggetta ad un'aliquota che varia in funzione di quanti sono stati gli anni di contribuzione però un'aliquota massima del 15% che può scendere per chi ha contribuito per più di 15 anni al fondo pensione scende dello 0,30 ogni anno fino ad un minimo del 9% quindi se abbiamo versato per 35 anni alla fine paghiamo la fiscalità su quello che andiamo ad incassare una fiscalità del 9% che è addirittura quella l'aliquota minima in ogni caso anche suppone si è un problema di pagare l'aliquota massima perché non sono così tanti anni che versiamo paghiamo il 15% la nostra pensione pubblica ci viene tassata invece secondo l'aliquota IRPEF anche lì supponiamo il livello minimo comunque il minimo è il 23% per cui c'è un grosso vantaggio fiscale anche alla fine direi che sei stato anche altri mi fermo qui fate il corso fate il corso esatto c'è proprio un corso specifico www.mas4.it avete sia il beginner che il retirement che vi spiegano nel dettaglio proprio tutte queste cose sul fondo pensione tra l'altro adesso c'è un'offerta che costa 97 euro è veramente nulla avete il beginner che vi spiega come gestire i vostri soldi come comporre un portafoglio quali sono i rischi quali sono i vantaggi che potete andare a cogliere nel mercato e il retirement invece vi spiega tutte queste cose come gestire i fondi pensioni gestire il TFR insomma c'è veramente tanta tanta roba e ad un prezzo di 97 euro è ridicolo rispetto al valore che avete siamo andati lunghissimi quindi vado scusa scusa Paola un ascolto raccomandabile sotto l'ombrellone secondo me è bello esatto sotto l'ombrellone e dicevo siamo andati lunghissimi quindi andiamo a chiudere Donne e Finanza di oggi con la sigla grazie a tutti